C'è qualcuno che vuole parlare di sesso con me? Tempi di prestazione? Un'ora e trenta minuti. Sesso orale, argomento interessante. Chi usa il preservativo? Preservativi, candam! Dire la verità, ho imparato tutto dal porno. Voi lo sapete quanto misura? Mai misurato. Quanti parto nel raveto avuto? Io capirei. Fate ancora l'amore? Altro che. Sex Education Show, dal 23 maggio su Fox Live. Grazie a tutti.